Michele Emiliano da Bari chiede alle primarie per il centro-sinistra Brindisino per ricompattare anche con Selle, la Puglia per Vendola e i DV, oggi lontani dal laboratorio. Anche se il sindaco di Bari solo dieci giorni fa aveva dato il suo benestare a Gonzales, ma dopo la sua decisione di candidarsi alle prossime regionali, manda l'input ai suoi e invoca le primarie, almeno a Brindisi. Nell'altra parte Giovanni Brigante, della Puglia per Vendola, lancia l'ultimo appello al PD per cercare la condivisione su un nome. Ma il Partito Democratico ormai ha le idee chiare dopo tutto quel traballare degli ultimi mesi. Con Selle se non si tocca, lui è il candidato della coalizione per il programma, su quello possiamo discutere, ma da mesi che cerchiamo il dialogo e il confronto. E così il segretario provinciale del partito, Tarantino, risponde a Brigante, ricordando che sono stati anche loro, insieme agli alleati, a chiedere al PD di fare un nome diverso da quello di Giovanni Carbonella. Noi non abbiamo mai chiuso assolutamente l'interlocuzione con tutti quei soggetti politici e sono seduti a quel tavolo. Oggi Mimmo Consales è il candidato sindaco di sette, di dieci di quei partiti e quei movimenti hanno seduti a quel tavolo. Ci hanno detto che si volevano confrontare sul programma. Noi siamo l'ultimo per il tema democratico che a quell'incontro abbiamo portato una bozza di idee programmatiche su cui costruire la coalizione. Io penso che la politica abbia il compito di fare un passo in avanti e non passi indietro. Io penso che ci sono tutte le condizioni per ragionare, ma sapendo che c'è in campo un candidato sindaco, una coalizione, un'alleanza, si erano assolutamente chiusa al contributo che può venire fuori da Selle, dalle dei valori e dal movimento di Giovanni Briganti. Il PD potrebbe mai fare un passo indietro su Consales? Ma ripeto, Consales non è il candidato sindaco del perso democratico. Oggi Consales è il candidato sindaco di un'alleanza che è già in campo. Quindi non vedo le ragioni per cui fare passi indietro. E Tarantino si dice stupito dalle affermazioni di Emiliano, ormai arrivate troppo tardi, ma strano che lui dica così, afferma Tarantino. Proprio lui ha partecipato al percorso sulla scelta di Consales. Mi sembrano starne queste dichiarazioni di Emiliano, per un motivo molto semplice, perché Michele Emiliano è stato insieme a noi protagonista dell'iniziativa che abbiamo messo in campo. E' convinto Michele che su Mimmo Consales sono tutte le condizioni per considerare la coalizione, così come noi auspichiamo insieme a lui. Quindi non ci sono i margini, i tempi per fare né primarie né mettere in discussione la scelta che abbiamo già fatto. Insomma Consales resta, chi vuole andare con il laboratorio dovrà andare anche con Mimmo Consales.